Amici di Motore Online, io sono Matteo Gallucci e questa è la nuova Audi e-tron Sportback, la declinazione SUV coupé della prima elettrica della casa dei quattro anelli. Partiamo con la consueta domanda, ci sta in garage perché con la Sportback le dimensioni sono davvero importanti, in lunghezza 4,9 m, in larghezza 1,93 m, in altezza solo 1,61 m con un interasse di 2,92 m e anche l'altezza da terra non è niente male, 17,2 cm. E come avrete capito dalle sue dimensioni l'Audi e-tron Sportback è davvero imponente, ma il suo posteriore da SUV coupé rende più elegante e sportiva tutta la silhouette dell'auto. Il frontale mantiene la tipica calandra single frame di Audi, ottagonale perché anche la e-tron Sportback appartiene alla gamma Q di Audi, quella dei SUV, ma lo fa a griglia frontale più chiusa, con uno stile più affine alla Q8 rispetto alla massiccia Q7. Con la e-tron Sportback debuttano in anteprima assoluta su una vettura di grande serie i proiettori LED Digital Matrix. Questa tecnologia deriva dal mondo dell'home theater e dei videoproiettori professionali e le inedite luci di Audi hanno un chip con un milione di microspecchi che possono cambiare orientamento fino a 5.000 volte al secondo. Così la luce a LED viene proiettata sulla strada formando un fascio luminoso a tappeto che ci indica in modo dinamico gli ingombri dell'auto e il restringimento della carreggiata. Oppure può essere catturata da un assorbitore per creare un cono d'ombra in un determinato punto, così da non dare fastidio a chi ci viene incontro o precedere. Al suo interno c'è un senso di spazio e abitabilità senza pari con il classico assemblaggio perfetto di Audi e materiali premium quali pelle e alcantara. La seduta è rialzata e si ha tutto sotto controllo con il virtual cockpit di Audi che anche su Sportback non smette mai di stupire. Sono tra gli schermi digitali dedicati uno a fare da cruscotto, quello centrale sdoppiato verticalmente per gestire l'infotainment e il climatizzatore. In più con la e-tron è presente un menu dedicato alla gestione della batteria che ci dà numerose informazioni di bordo, dialogando anche con il navigatore. Così possiamo sapere la posizione delle colonnine libere più vicine e pianificare al meglio il nostro viaggio. Se lo spazio a bordo sembra infinito per tutti gli occupanti, anche lo spazio dedicato ai bagagli non è davvero niente male. Nel vano anteriore sono disponibili 60 litri dove riporre oggetti e ingombranti cavi di ricarica. Mentre il vano al posteriore non viene penalizzato troppo né dalla forma da coupé né dal pacco batteria che rimane sotto al pianale, per una capacità che va da 615 a 1655 litri totali. Certo che la soglia di carico a 78 cm da terra può richiedere qualche sforzo per caricare i bagagli più pesanti. Eccoci finalmente al volante della Audi e-tron Sportback elettrica. Ovviamente abbiamo due motori asincroni, uno per asse, quindi uno all'asse anteriore e uno al posteriore. La trazione integrale Audi 4 elettrica è voluta, ovvero il tempo di risposta è ancora migliorato. Le sospensioni sono pneumatiche, questo è molto importante. In base alla velocità di percorrenza, ma anche alle mappature del Dynamic Select, l'auto si abbassa o si alza. Abbiamo un'escorsione totale massima di 7,5 cm. e la potenza complessiva dei due motori arriva a 300 kW, pari a 408 CV, con una coppia massima in overboost di 664 Nm. Valori molto importanti che garantiscono uno scatto quasi da supercar. 0 a 100 coperto in 5,4 secondi, mentre la velocità massima è auto limitata a 200 orari. Sono valori importanti a livello di prestazioni perché il peso della Sportback è molto incisivo, molto significante. siamo a 2.500 kg in ordine di marcia e solo il pacco batterie pesa 700 kg. Un pacco batterie che, secondo l'omologazione rigida WLTP, abbiamo 446 km di autonomia dichiarati. Purtroppo in questo primo contatto non sono riuscito a verificarlo visto il poco tempo a disposizione. Però, devo dire che siamo in giro da abbastanza e la batteria sembra reggere. L'auto in prova è la 55,4 che ha lo stesso pacco batterie della e-tron tradizionale, parliamo di 95 kWh, però, grazie alla conformazione da SUV coupé, quindi col tetto discendente al posteriore, è un'aerodinamica, quindi più efficace. Con gli specchietti virtuali arriviamo a un CX, a un coefficiente aerodinamico di 0,25 che è il record di categoria. E quindi questo permette di risparmiare in termini di consumi batteria e di aggiungere 10 km di autonomia complessiva rispetto sempre alla e-tron standard. Un'aerodinamica molto studiata, tutto il fondo è carenato completamente e quello che mi piace molto di questa e-tron, oltre al comfort assoluto, sia acustico sia di marcia, è come modula il pedale del freno. E su un'elettrica è importante ed è quasi una rarità. Qui abbiamo i motori che intervengono direttamente per frenare la vettura e questo Audi ci dà un dato, il 90% delle nostre frenate non interverranno direttamente le pastiglie dei nostri freni, ma saranno i due motori stessi a frenare l'auto e a rigenerare energia per la batteria. E questo ci permette anche di aumentare l'autonomia complessiva dell'auto. A proposito della batteria, quanto tempo ci vuole per fare un pieno d'energia? Dipende dall'opzione scelta per la ricarica delle grandi batterie da 95 kWh. Il caricatore da 22 kW in corrente alternata è un optional, mentre di serie c'è solo quello da 11 kW. Ma è in corrente continua, da colonina veloce, che raggiungiamo la ragguardevole potenza di 150 kW, passando dallo 0 all'80% di ricarica in soli 30 minuti. In più, Audi fornisce una carta che dà accesso a oltre 140.000 stazioni di ricarica di diversi fornitori, incluse le colonnine veloci di Yoniti, che sono distribuite in 24 paesi europei. Un appunto sugli specchietti virtuali. Da vedere sono bellissimi, riducono l'ingombro dei classici retrovisori di ben 15 cm e all'interno abbiamo dei veri e propri schermi da 7 pollici ognuno, orientabili a sfioramenti. Però proprio la posizione degli schermi ci inducono ad abbassare lo sguardo verso l'interno porta e bisogna farci l'occhio soprattutto in manovra per capire bene le distanze dal marciopiede di turno. In conclusione, cosa mi è piaciuto della Audi e-tron Sportback e cosa non mi è piaciuto? Il comfort e silenziosità di marcia grazie al binomio, frazione elettrica e sospensioni pneumatiche sono il massimo su qualsiasi tipo di strada. Lo spazio a bordo non è per niente penalizzato dalla linea da coupé ed è davvero molto per tutti e cinque gli occupanti. La dinamica di guida è buona e reattiva nonostante il peso e dimensioni con un pedale del freno modulabile che non ti aspetti su una elettrica. Di contro avrei preferito una dotazione più completa di serie. La soglia di carico a 78 cm è elevata e non mi hanno convinto gli specchi attivi virtuali a livello di praticità. Il listino prezzi dell'Audi e-tron Sportback parte da 75.400 euro per la versione 54 e arriva a 87.400 euro per la versione della prova, la 55.4. Ma voi cosa ne pensate del Big SUV Coupé elettrico? Lo preferite rispetto alla Tesla Model X oppure alla Jaguar I-Pace? Beh, fatemelo sapere nei commenti sotto a questo video. Lasciate il like se vi è piaciuto, seguiteci su tutti i nostri social e sul sito motorionline.com dove troverete l'articolo di approfondimento. Al prossimo video, ciao!